Vuoi dichiarare qualcosa? Cioè praticamente, casetto sei nelle mie mani Se io non ti faccio passare davanti a me non arrivi secondo Cosa faccio ragazzi? Dacci dentro Dacci dentro Lo sport è sport Lo sport è sport Anche il commento che devo fare meglio del figlio di Marco Che a 10 anni ha fatto 2,41 Dacci dentro Ragazzi non posso fare meno Cioè c'è il tuo zio, ti ride Senza offesa, intervistami qua Aiaia Questi sono gli eroi Gli unici due che vorrebbero togliere la disciplina del nuoto Allora scusa Ma che disciplina è? Il cloro fa male, santo Vai avanti indietro, se non avanti Ma che cazzo ti custodiate dagli altri Dite, 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 dite qualcosa Intervistami anche a Vieni, vieni, cana Non ci vuoi dire Non sa cosa vuoi dire Vado a venire Alessandro Ottimisti tutti Ma no, io ragazzi non posso avere le mani Se c'è in mano la posizione di me No, io vicino Alessandro Ragazzi qua Qua si rischia il biscotto di Bruino Ragazzi Trez Come va? Pinci di brutto Buona birretta Mamola abbiamo delle dichiarazioni importate Ci hanno detto che devi dare Io devo rimanere assolutamente davanti ad Alessio Adesso è Alessio in questa batteria E davanti a Iva Ok Hai dichiarato? Quindi il quarto posto Quarto posto per uno di mezzo Siamo tutti? Sì A posto Vai capo Che grande Che grande Alfri Mezza vasca Vuoi dichiarare qualcosa Alfredo? Vuoi dichiarare qualcosa? Puoi dirlo Vai Alfri Alfri Sei ultimo Stingi Non è vero Alfredo Alfri Sei Don Paolone Un cacchio Non fa male Non fa male Non fa male Alfredo Non fa male Quello di mezzo Quello di mezzo Vai Tutta l'ultima Vai Alfredo Secco Secco Adesso Scusa 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 Alfredo vai Spingi adesso Alfredo Spingi Vai Arrivi Vai 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 l'altro Vai l'altro Bravo Bravo capo Dichiarazione a caldo Capo Dichiarazione a caldo Grazie Bravo Bravo Grande Palone Harry Harry Microfono Bravo 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 Non lo so Io guardavo la telecamera Finchia ragazzi Dura eh Finchia troppo dura Trezze Grande Trezze Primo Trezze Sandro No È dura Ma Alezio Uno più morire Senza più Ah È dura Cosa è andata Come è andata Allora ma Da verità molto bene Mi sentivo benissimo Prima Molto meglio Nella seconda Il cloro come ne trovate Noto che si è fatto un segno Il cloro è davvero buono Devo dire che qua è meglio rispetto Alla B station Ragazzi Lo togliamo il nuoto Ragazzi Tu eri un nuotatore una volta 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 Escolta la tua scadenza era 82 anni Boh Dai Eri un nuotatore Vale? Sì Sì